32 anni trovato morto in una camera d'albergo a Pesaro, indagano i carabinieri. 32 anni trovato morto in una camera d'albergo a Pesaro, indagano i carabinieri. Un nuovo punto luce nella zona del ponte Mimmo Afano. L'assessore Brunori annuncia anche più illuminazioni in via Frusaglia. I pali della luce rimarranno accesi fino alle 6 della mattina. Tra poco, dopo il telegiornale, torna in diretta Primo Cittadino, ospite il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, un giovane milanese di 32 anni è stato trovato morto questa mattina in una camera d'albergo dell'hotel San Marco a Pesaro. A lanciare l'allarme è stata una cameriera che intorno alle 10.30 è entrata nella stanza utilizzando il passepartout, dopo aver bussato senza ricevere risposta. Sul posto i sanitari che ne hanno constatato il decesso e i carabinieri che hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso, come per l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. In primo piano, anche la solidarietà della Regione Marche e della provincia di Pesaro e Urbino verso il popolo ucraino sono stati attivati conti correnti e sono cominciate le raccolte di farmaci e altri beni di prima necessità. Annunciato per domani a Fano un tavolo di coordinamento per capire come gestire gli aiuti. È il saluto di una bimba ucraina per ringraziare degli aiuti ricevuti e a Fano insieme alla sua famiglia, la piccola che ancora non conosce la tanta crudeltà di chi ha innescato una guerra nel suo paese. Migliaia di persone stanno scappando e molti hanno raggiunto anche l'Italia grazie alle varie comunità o ai parenti, come in questo caso, pronti ad offrirgli ospitalità. Un gruppo di cittadini ieri ha iniziato a raccogliere beni di prima necessità da consegnare agli ucraini, arrivati nella città della fortuna. Ok, è arrivata a destinazione le cose donate da Paola. Adesso stiamo scaricando la macchina, sperando che siano contenti. Poi verranno richiamati domani. Intanto, grazie. Abbiamo ricevuto tanta solidarietà anche da Pesore Fossombrone, ci ha fatto sapere Paola, una delle organizzatrici, c'è che ha portato bene e che ha messo a disposizione le proprie stanze per accoglierli. Intanto, mentre si susseguono le iniziative contro l'invasione per mano di Putin, come dimostra questo video che ci arriva da Cagli, a Pesaro la Caritas ha attivato i conti correnti pubblicati sulla pagina Facebook per avviare la raccolta fondi. Per il momento, però, non raccoglie genere alimentari, coperte, farmaci e altri prodotti da inviare come aiuto umanitario, perché, come si legge nella locandina, non è possibile garantire la consegna vista la situazione attuale. Ad attivare questo tipo di raccolta, invece, la comunità ucraina delle Marche, sempre sui social, è possibile leggere l'elenco dei prodotti e dei medicinali richiesti, con i numeri di telefono dei referenti divisi per città. D'altra parte, la Lega Marche ha annunciato di aver avviato una interlocuzione con l'Erap e la ricognizione dei posti disponibili nei CAS per dare alloggi ai rifugiati. Oggi, poi, Enzo Belloni e Luca Pandolfi, assessori all'operatività e solidarietà del Comune di Pesaro, hanno annunciato SOS Ucraina, la linea diretta, attivata in collaborazione con il Comitato della Protezione Civile. Un numero di telefono che risponderà dalle 9 alle 11 e dalle 17 alle 19 e una mail a cui i cittadini potranno rivolgersi da mercoledì 2 marzo. L'obiettivo è coordinare gli aiuti, le donazioni e le offerte di alloggio che stanno giungendo sin dal primo giorno di guerra e che si sono intensificate da venerdì scorso, dopo la fiaccolata, alla quale hanno partecipato pesaresi e ucraini. A Fano, invece, come ci ha riferito il direttore dell'ufficio pastorale Migrantes, Don Alessandro Messina, la diocesi incontrerà domani mattina i vari uffici e le associazioni di volontariato per fare il punto e dare indicazioni precise su come, dove e quando poter consegnare il materiale utile alla popolazione colpita dall'invasione russa. Il tutto in piena collaborazione con Don Vladimir Medvid, direttore Caritas dell'esarcato ucraino in Italia. Da domani fino a martedì 8 marzo, nelle farmacie comunali di Pesore e di Gabice, si potrà partecipare alla campagna benefica per ogni prodotto acquistato in favore della popolazione ucraina, ad esempio Bende, Garza, Cerotti, Integratori, Sciroppi, Peratosse o Tachipirine. Uno identico verrà donato anche dalle farmacie. Siamo sicuri che, come sempre, ha commentato il presidente di Aspes, Luca Pieri, Pesore e Gabice Mare risponderanno con generosità a questa campagna, con l'auspicio che presto possa tornare la pace. E oggi pomeriggio si è svolto un primo incontro della Commissione Speciale della Protezione Civile che riunisce tutti i dipartimenti regionali per analizzare il quadro legato alla crisi in Ucraina. Quella di oggi, ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Guzzi, è una prima riunione interlocutoria. Abbiamo manifestato la disponibilità da parte delle Marche a rispondere alle richieste europee. È una situazione ancora confusa e in evoluzione, ha continuato Guzzi, poiché lo scenario nei territori in guerra cambia continuamente. Aspettiamo direttive da parte del Governo che consentano di definire come veicolare gli aiuti. Nell'attesa invieremo una preallerta alle aziende ospedaliere della Regione e all'Asur affinché si attivino per effettuare una ricognizione delle disponibilità di farmaci e materiale sanitario come richiesti dall'Ucraina. La cronaca. Un marocchino di 20 anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine per il reauto di ricettazione. Il giovane è stato trovato in possesso di un cellulare iPhone 13 Pro Max sottratto poco prima a una ragazza che lo aveva dimenticato sul balcone della biglietteria della stazione dopo aver acquistato un biglietto. La ragazza, poco più che ventenne disperate e lacrime, ha chiesto aiuto al personale della Polizia Ferroviaria per sporgere denuncia. Gli agenti hanno notato che era in possesso anche di un dispositivo iPad e quindi le hanno chiesto di attivare la funzione di geolocalizzazione dalla quale è stato possibile rilevare la posizione del telefono. Grazie alla stretta collaborazione tra la Polfer, la squadra volante della questura di Pesaro e poi quella del commissariato di Fano, lo straniero è stato rintracciato nel piazzale antistante alla stazione di Fano e denunciato all'autorità giudiziaria. Il telefono invece è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. Rimaniamo a Fano dove sabato scorso un centinaio di persone ha protestato in piazza Marcolini contro il possibile abbattimento dei leci in vista del restyling voluto e studiato dal comune. Salviamo i leci di piazza Marcolini. Con questo slogan ambientalisti e residenti si erano dati appuntamento sabato scorso per lanciare l'ennesimo appello al comune di Fano, quello di non abbattere nove leci, di cui sei, presenti da oltre 70 anni. Siamo favorevoli alla ristrutturazione della piazza, hanno ribadito con il megafone in mano, ma questi alberi, definiti monumenti della natura, devono essere salvaguardati per il loro valore paesaggistico ambientale e per i servizi ecosistemici che offrono gratuitamente. A portare avanti questa battaglia anche la lupus in fabula. Claudio, per voi significherebbe creare un danno economico, sociale e ambientale. Per quale motivo? La relazione che abbiamo commissionato a un tecnico nostro di fiducia dice sostanzialmente che questi alberi nei prossimi 15 anni possono produrre benefici a livello economico per 68 mila euro, a fronte di costi di manutenzione per 15 mila euro. Per cui c'è una differenza evidente tra quello che ancora gli alberi possono dare e quello che è il loro costo di mantenimento, di gestione. Una gestione che richiede una gestione sia normale, ordinaria, cioè potature, contenimenti, ma anche una gestione magari di valutazione della stabilità, di tanto in quanto, secondo lo stato degli alberi. Ricordiamo appunto che gli alberi forniscono questi benefici che sono appunto l'assorbimento di ossigeno, l'immagazzinamento del carbonio, il trattenimento dell'umidità quando piove, riduzione di isola di calore, sono la casa per gli animali e tanto altro. Quindi queste cose sono di condizionamento di danni naturali. Queste cose non vengono mai considerate. Si guarda solo l'aspetto estetico, che comunque è importante perché sono alberi monumentali, però bisogna valutare anche tutto il resto, che è un valore economico. Il Comune ha annunciato uno studio per valutare le condizioni dei lecci e voi su questo già da tempo avete organizzato una raccolta firme. Noi quando, sette mesi fa, il Comune ha presentato un progetto di abbattimento di questi alberi, abbiamo raccolto 350 firme, anche grazie all'aiuto del Conte Lupo Bracci, e abbiamo inviato insieme alle firme questa perizia tecnica. La perizia dice cose contrarie rispetto a quello che dice la perizia del Tecnico Comunale e anche quello che c'è scritto nella relazione. Le leggi spirilate, che appunto dite spirilate o strozzanti, non sono compromettenti per la stabilità dell'albero. Ma d'altronde anche la relazione del Tecnico Comunale si conclude dicendo non sussistono motivi di urgenza che ne motivino il loro abbattimento. Quindi noi crediamo che un progetto debba essere cambiato perché come prevede la legge forestale, le piante protette, soprattutto queste qui, di questa natura, di questa dimensione, possono essere abbattute solo se non esistono soluzioni alternative. In questo caso esistono, bisogna semplicemente lavorare sull'esistente, fare la pavimentazione, tutto quel che si vuole, ma lasciando le piante perché queste sono un valore monumentale. Sono come i palazzi che ci circondano e quindi vanno preservati perché hanno appunto una loro funzione che ancora può durare molto nel tempo. Eventualmente valuterete anche una diffida? Beh, adesso daremo del materiale che abbiamo raccolto a un nostro avvocato che valuterà se esistono motivi legali per diffidare il Comune dal procedere con questo progetto, proprio per questa ragione che le piante sono protette e sono secolari. Soddisfatti invece i residenti che abitano vicino agli impianti sportivi della Trave per il nuovo punto luce installato nella zona del Ponte Mimmo. A parole ma anche con un cartello affisso questa mattina, i residenti della zona del Ponte Mimmo alla Trave di Fano hanno ringraziato l'assessore Barbara Brunori e Aset per aver dato una risposta all'esigenza di un'adeguata illuminazione pubblica. Infatti la famiglia Carboni, nota anche per aver portato avanti le battaglie a favore del ponte, come mostrano queste foto d'epoca, chiedeva da tempo un nuovo punto luce e finalmente nei giorni scorsi la richiesta è stata soddisfatta. Assessore avete dato un'importante risposta a questi residenti dopo le richieste che hanno avanzato per anni? Sì, richieste avanzate per anni e questo è proprio il tipico esempio di un dettaglio che fa la differenza, perché parliamo di un semplice punto luce ma installato nel punto giusto riqualifica quella che è la vivibilità ma soprattutto la sicurezza delle persone che ci vivono e anche i ragazzi che magari in tardo orario rientravano a casa e invece in questo luogo proprio non c'era illuminazione. È chiaro che io sono grata a chi me l'ha segnalato perché in questo caso Sergio Carboni lo cito proprio perché è stato quello che con me mi ha accompagnata in questo percorso che sono mesi che perseguiamo perché essendo di pertinenza al bacino fluviale della regione abbiamo dovuto sottoporre una richiesta innanzitutto alla regione che in tutta la prassi ha tardato un po' però finalmente oggi è arrivata e luce fu. Per migliorare tra l'altro questo via Frusaglia perché naturalmente qui parliamo di un tratto che è abbastanza lungo ho interdetto anche 5 punti luci del circuito Marconi che di solito alle 11 della sera vengono spenti invece gli ho lasciati accesi sino alle 6 della mattina proprio per favorire questo percorso di sicurezza che è iniziato e deve avere anche un'estensione sino alla fine della via. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 11.15 lungo l'autostrada 14 in direzione sud poco prima dello svincolo per l'uscita di Ancona a causa di un incendio che ha coinvolto un autocarro che trasportava mobili i pompieri intervenuti con due autobotti hanno provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento il conducente del mezzo ne è uscito il leso mentre l'autostrada è rimasta aperta ad una sola corsia di marcia sul posto anche la polizia autostradale. Invece in via Santo Spirito a Pollenza nella provincia di Macerate i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo che era salito su un albero per tagliare i rami quando è caduto rimanendo impigliato a testa in giù dopo averlo liberato i pompieri lo hanno adagiato su una barella posta sull'autoscala per poi consegnarlo ai sanitari che a bordo dell'eleambulanza lo hanno trasportato in ospedale. Cambiamo argomento si è conclusa con un grande successo la settimana delle Marche all'Expo di Dubai una grande occasione per tante aziende del nostro territorio che hanno presentato le loro eccellenze ai mercati degli Emirati Arabi Uniti L'incontro con la delegazione di Confartigianato e la Camera di Commercio italiana e poi un pomeriggio dedicato al beauty alla moda, gioielli e al cibo giornate piene di impegni per la Regione Marche e l'Expo di Dubai abbiamo presentato prodotti altamente innovativi e di grande qualità in tutti i settori ha detto il Vice Presidente Mirko Carloni le potenzialità di crescita per l'export marchigiano sono enormi e continueremo a sostenere le nostre aziende che ci hanno fatto fare una splendida figura di fronte al mondo bisogna in qualche modo prima creare delle relazioni per poter essere credibili e poi bisogna la stabilità quindi questo posto un mese è benissimo secondo me bisogna pensare a qualcosa che duri un po' più di un mese e farlo diventare davvero un marketplace stabile per la nostra identità e tra le aziende protagoniste nei giorni scorsi c'è stata Collesi Beauty che ha presentato in esclusiva mondiale la sua innovazione nell'ambito della cosmetica infatti la grande esperienza maturata dal gruppo sulle birre artigianali ha dato vita a una gamma di prodotti e trattamenti rivolti alla cura della pelle e del corpo con i principi attivi e salutari della birra un'esperienza molto positiva è stata molto bello sia l'evento che anche la possibilità di incontrare parecchi investitori parecchie persone interessate a distribuire i nostri prodotti quindi concludiamo bene questo evento con la cena interamente realizzata da cuochi del regione Marche soprattutto dai ragazzi della squadra dell'istituto alberghiero di Piobbico e ormai contiamo di rimanere qua su Dubai anche per nuove iniziative e ringraziamo fortemente la regione Marche per averci dato questa importante opportunità di crescita del progetto e soprattutto un inizio perché per noi questo è un inizio qui a Dubai delle opportunità future che poi si andranno a creare che qualcosina già è nata in questi giorni ma che abbiamo intenzione di sviluppare nel futuro insomma Al centro di Dubai invece è stato inaugurato lo showroom allestito fino al 31 marzo da otto eccellenze del territorio marchigiano riunite nel progetto Artisan Emotion per fare breccia nel mercato di Mediorente, Africa e India a rappresentare la provincia di Pesero Urbino anche Giorgio Aguzzi di Old Gold un'azienda orafa di Fossombrone Penso che questa sia una grande occasione per noi per le piccole aziende come noi che in qualche modo vogliono affacciarsi a nuovi mercati anche se per quanto riguarda la nostra realtà siamo già in qualche modo presenti da diversi anni attraverso le fiere qui negli Emirati però in questo modo pensiamo di poter puntare più in alto puntare a conoscere nuovi operatori, nuovi distributori quindi ampliare la nostra fetta di mercato è un'azione che sicuramente da soli non saremo riusciti assolutamente a fare quindi è una grande soddisfazione e il nostro ringraziamento va veramente alla Regione alla CNA, a tutti coloro che hanno lavorato in questo progetto perché ci danno la possibilità veramente di proporci e soprattutto di affrontare anche nuove sfide che sicuramente ci piace affrontarle e ci sentiamo anche più sicuri attraverso questi aiuti, questi sostegni che in qualche modo penso ci diano la possibilità di spaziare e di orientarci non solo al mercato emiratino ma a tutti i paesi del Golfo e di questa grande area all'Expo anche la moda Made in Marche dal 21 al 24 febbraio l'azienda temporanea di imprese realizzata da Creazioni Italiane Pignotti Ulderico e Officine Modelli ha partecipato ad incontri d'affari con distributori e commercianti locali l'occasione è servita per mettere in evidenza le loro ultime collezioni Pensate per soddisfare i gusti raffinati del mercato medio orientale e far comprendere il valore della qualità che spesso supera il brand Speriamo vivamente che questa serata non sia solo una conclusione ma un augurio di un prospero futuro per le nostre aziende in questo territorio Il Carnevale di Fano prosegue i suoi appuntamenti per la settimana grassa Oggi pomeriggio si è tenuto il Consiglio Comunale del Carnevale congiunto a quello delle bambine e dei bambini Domani invece dalle ore 14 in piazza 20 Settembre è previsto uno spazio dedicato al mercatino con stand di dolci tipici e maschere carnivalesche Il clou dell'evento si svolgerà alle 17.30 quando verrà recuperata la presentazione del carro Fanno la Divina a cura del liceo Nolfi a Polloni Il corteo partirà da piazza Costanzi per arrivare in piazza 20 Settembre alle ore 18 dove si potrà apprezzare la mostra di foto e bozzetti della mascherata allestita dai ragazzi del liceo Seguirà la cerimonia di chiusura della settimana grassa con la presentazione del rogo del pupo e una piccola introduzione da parte dell'attore Enrico Spelta Non mancherà l'allegria della storica banda fanese della musica arabita che accompagnerà la sfilata del carro e il rogo del pupo E adesso apriamo l'album di Fanno TV perché dobbiamo fare gli auguri a Bernardino Nicusanti e a Rina Di Sante residenti a Mondolfo che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio Auguri a questa coppia che appunto ha festeggiato le nozze d'oro Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi torniamo in diretta per Primo Cittadino sta per aggiungere i nostri studi il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni parleremo di ospedale, di lavori pubblici e tanto altro dunque rimanete sintonizzati e ci rivediamo tra poco Grazie a tutti